Ciao a tutti, questa la prendiamo con tutta la calma del mondo perché ci vorrà tempo. Il mio maestro di giochi di ruolo mi ha sempre parlato molto bene di quest'opera, The Burning Will, ok? L'ho rivista, mi è riapparsa letteralmente davanti quando ho trovato un altro gioco di ruolo che ho amato, alla follia, che non è talmente la Mouse Guard. Però, alla fine, non avevo mai affrontato l'opera. L'opera, proprio questa, questa addirittura è la versione Revised, che compende i libri 1 e 2, ok? L'ho affrontata, è un'opera mastodontica, letteralmente mastodontica. Non mi sento le capacità di poterne parlare in maniera esaustiva, non mi sento le capacità di poter spiegare e darvi una visione completa di un'opera che io parto dal presupposto, chiunque, chiunque nel mondo voglia leggere giochi di ruolo e gli piacciono e voglia approfondire l'argomento, ha da legge, punto. Ci sono delle opere che devi leggere per forza, devi leggere D&D, almeno qualche d'uno, ti direi la tre e mezzo, ma non necessariamente, basta leggertene qualcuno, ok? Devi aver letto almeno un'opera della White Wolf, devi leggere Burning Will, punto. Secondo me non c'è tanto da discutere su questo argomento. E se non siete d'accordo, ditemelo, però questo è davvero difficile riuscire a cambiare l'opera mia opinione. Dopo l'esperienza che ho avuto, cercare di digerire, di apprendere, di imparare, in che poi alla fine l'obiettivo mio è stato imparare qualche parola da Burning Will. Allora, questo era un intro, scusatemi. Burning Will, che cos'è? Burning Will è un gioco di ruolo, esattamente è un sistema di regole. Un sistema di regole per un fantasy, un fantasy tradizionale. Un sistema di regole, questo è un sistema di regole. Questo è solo un sistema di regole. Non ha un setting, anche se poi il setting traspare dalla creazione del personaggio, e dopo vi racconterò questa cosa. Penso che sarà un argomento molto lungo. È un'opera da 600 pagine. Lo so, è molto fine. Fidatevi, sono 600 pagine super dense. Ho messo praticamente tre settimane, arrivo a fondo alle prime sessanta. The Burning Will è un'opera che ha come principali fautori, anche se non sono gli unici, Luke Crane e Dan Abram, che sono gli autori del concetto originale. In realtà lo staff lavorativo è enorme, alla fine, e questo gli ha permesso di arrivare a dei livelli di precisione e perfezione molto elevati. Che cos'è Burning Will? Burning Will è fondamentalmente, come vi dicevo, un sistema di regole generico per poter giocare nel proprio fantasy. Non parte da crearti un setting, non te lo dà. Ti vuole dare tutti gli strumenti per giocare fantasy. Fantasy tolkeniano. Perché chiunque dica l'opposto è un folle, secondo me. È un fantasy tolkeniano, o che comunque si prende a entrambe le mani dal mondo del fantasy classico. Umani, nani, orchi, elfi. Quattro possibilità di gioco. Qual è la caratteristica principale di Burning Will? Poi vi racconterò qualcosa del sistema di regole, però come vi dicevo, sono 600 pagine di regole, quindi in realtà non vi posso raccontare niente di questa meravigliosa opera. Meravigliosa, è bellissima appunto. Non ti resta a destino, mi credo da morire. Spero di riusci a giocare una volta, penso mi diventerò a fare personaggi. Tornando a noi. Che cosa ha di particolare Burning Will? Penso che un'introduzione che ci è stata fatta sia stata fatta veramente con estrema attenzione e molto bene. L'ha fatta Jake Norwood e fondamentalmente vi riprendo qualche parola. La prima frase è io credo in Burning Will. Burning Will richiede un'enorme azione, un desiderio dei giocatori di entrare a far parte dell'azione di gioco, di voler giocare, di voler stare insieme e giocare a quest'opera. Il lavoro che i giocatori devono fare in Burning Will per sostenerla, questa è una parola che ha fatto un amico cliente, un mio amico, di cui se ne parlava, il mio cliente è diventato amico, di cui se ne parlava e mi raccontava giusto appunto che Burning Will ha questa caratteristica che i giocatori non possono giocarlo applicando le regole. Non posso fare semplicemente il mio tiro di Black 5, ok? Il mio tiro Black 5 di sword fighting, di utilizzo di coltelli, ok? Non basta questo, non è possibile concepirlo. Ci vuole supporto insieme a le regole, segnare risultati, creazione di un personaggio a tutto tondo, seguendo direttamente il percorso delle regole, di tutti i passaggi di vita, di tutte le caratteristiche derivate. Ogni volta che fai un'azione devi dichiarare se vuoi farla con calma, se vuoi farla con attenzione, con cura, velocemente. Questo modifica le regole. Metti in campo l'arta? Sì, quanta, perché lo fai? Hai a disposizione altri punti di fede in te stesso? Quali sono i tuoi believe? Quali sono il concept di base? Questa è la parte del giocatore. Poi c'è tutto il master. Andiamo un attimo... Lo so, è strano raccontarvi in questa maniera, perdonatemi. Cercherò di fare il possibile. Questo è un esempio di scheda. Come potete fare una scheda vuota. E questa è una fascia tantissima. Sempre in questa scheda. A più pavine. Il Burning Wheel è un gioco di ruolo molto complesso. non è un traditional, per niente, dal punto di vista. È letteralmente un'opera moderna, che si basa sui concetti forgiti, appieno, perché prende mani da Creni della Vigna, per fare un esempio. Ma porta questi concetti nel gioco di ruolo tradizionale, nel gioco di ruolo frontale, tradizionale, ad alta simulazione. Quindi ci troviamo di fronte a un gioco di ruolo che fa attenzione agli intenti delle azioni. Cioè, perché lo faccio, cosa voglio fare, quale skill tiro. Questo è il percorso da fare ogni qualvolta si va a prendere le dadi in mano. Una volta che aggiungo a questo obiettivo, mi fermo e faccio. Quale delle mie competenze da giocatore, da personaggio, possono aiutarmi? Sto cercando di colpirlo. Sto cercando di abbattere questo cavaliere. Che mi sta venendo incontro. Sono fermo. Ho la mia lancia. Mi guardo, guardo il mio passato di vita. Sono un umano, sono un nato contadino. Sono riuscito a arrivare in città, ho diventato un macellaio. E a causa di quello che poi è stato portato via di tutto quanto della mia vita, ho deciso di diventare un soldato. So usare la lancia. Aspetta, sono un macellaio. È a cavallo. So qual è il punto valido del cavallo. Sì, hai un bonus. Questo è il percorso che fai. Il mio obiettivo è abbatterlo, farlo cadere a terra. Prenderò la mia uso della lancia. Prenderò quelle che si chiamano le foreword, le conoscenze esterne. Quindi, per caso, sapere come funziona un cavallo. Qual è la sua biologia. E userò tutto quanto per fare un pool di dadi. E tirerò. Tirerò questo pool di dadi, che sono andati di 6. Per darvi un'idea di come funziona il sistema di regole. Sono andati di 6. E di base, 4, 5, 6 è successo. Sommerò i successi. Vedrò quanti ne ho fatti. Vedrò se sono sufficienti per raggiungere la difficoltà. E se saranno sufficienti, avrò colpito il cavallo. Questa è una frazione del sistema di regole. Perché il sistema di regole si suddivide ogni singolo aspetto in tantissime parti. Vi faccio qualche piccolo esempio. Ok? Però ripeto. È un sistema di regole molto complicato. Il sistema di base delle regole di... di Reborning Will è quello di avere i tiri di dado fati a pool di dadi con 4, 5, 6 come è successo. Normalmente è questo. Infatti, quando si tira una skill, per esempio, potrebbe essere Brawl, si tira 4B. Chiamato B4, scusatemi. Cioè, ovvero, Brawl, Rissa, Black, Nero, 4. Questa è la forma in cui si crea una skill. Vuol dire che io tiro 4 dadi e al 4, 5, 6 è successo. Alcune skill possono avere delle ombre. Ed essere quindi grey. o white. Quando arrivo a dei livelli di estrema eccezionalità, quasi sovrannaturalità, quasi un'abilità magica, ok? A quel punto potrebbe essere che il mio black diventi grey. Un elfo, Granpasso, per esempio, che non è un elfo, Granpasso, è un personaggio eroico, centrale in una storia, con abilità incroncepibili, da Ramingo, e probabilmente il suo seguire tracce ha una scala di grigio. E quindi vuol dire che il successo è il 3, 4, 5, 6. Se fosse divino, Gandalf il bianco, quando usa una magia, sarebbe white. e quindi 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Queste sono le scale, diciamo meglio le grey scale, le scale di grigio, e le abilità. Questo è il concetto di fondo. La cosa più importante è che questo concetto di fondo, questo semplicissimo concetto di fondo, si modifica per ogni singola situazione che vai a mettere in campo. Questa è una tabella che c'è a pagina 14 dell'esempio, della differenza tra livello di ostacolo e esponente. Si chiama exponent, il numero che hai da un'abilità. Non perché sia elevata la potenza, come dice lui, ma sempre che è la rappresentazione, cioè il tuo esponente, tutto quello che sai fare. Quindi la mia Brawl Black 4 ha esponente 4. Ok? Questo è proprio un esempio. Pagina 14, ragazzi. C'è proprio le tabelle con le statistiche a pagina 14. E poi comincia. Secondo me ci si può dare un esame. Penso sia un esame da 6 crediti. Sì, secondo me è da 6 crediti tutti. Ma leggero, leggero proprio. Quindi, come vi dicevo, oltre al skill, oltre alle statistiche, le statistiche derivate, che sono molte, sono differenti, abbiamo l'acciaio, che si baserà su delle domande fatte sulla propria tempra. L'acciaio e tempra, la tempra che una persona ha, si basa su delle domande, che si fanno durante la creazione del personaggio, e che ti permette di resistere alla paura, per esempio, o se prendono le nostre soglie della ferita mortale, le ferite traumatiche, le ferite lievi, si creerà quella che poi è chiamata la fede, che serve per poter accedere ai poteri e ai miracoli. Oltre a tutta la salute, i riflessi, gli attributi emozionali, per vedere le varie scale, i vari comportamenti che una persona ha, fate è una cosa praticamente umana, avremo poi il rimorso, avremo l'avidità, l'odio, legate alle singole razze. L'odio è degli orchi, l'avidità è dei nani, sono statistiche emozionali specifiche e uniche di alcune razze e gli permettono, gli modificano completamente il tipo di gioco. Oltre a questo, avremo poi gli istinti. Gli istinti, i tratti e le credenze. Gli istinti saranno una delle specie di macro, preprogrammazione del personaggio, ogni volta sento il pericolo estrago la spada. Di fatto è un istinto, un istinto che puoi creare, che puoi avere nel personaggio, che si autoattiva, che si mette in campo prima del tiro di dado, che può creare problemi e quindi di conseguenza darti punti esperienza, tra virgolette. Avremo quelle che sono le proprie credenze, che quando finalmente riuscirò a portarle avanti guadagnerò quelle che si chiamano esperienza, o meglio, si chiama Arta. Ok? Questa è la base del personaggio. Tutto questo, molto ampio, non si crea avendo un enorme pool di numeri da mettere in campo, ma si crea letteralmente facendo quelle che si chiamano i Life Path. Si sceglie di cosa si vuole nasce, si pensa a un inizio di concetto e poi si comincia a percorrere un percorso di vita. Se qualcuno di voi ha letto Cyberpunk 2020, magari gli può venire in mente il role randomico degli anni. Ecco, è talmente tanto lontano, ma talmente tanto affine, che potrebbe essere quasi utilizzato come esempio, ma preferisco vederlo letteralmente come la ricostruzione dell'albero genealogico della vita del personaggio. Parti nascendo da qualche parte, consumando un tot di anni fino a che non hai un barlume di lucidità e un inizio di concetto di schiedibilità. E poi passo dopo passo scegli che percorso fare. sono nato un clansman come in nano. Guadagno 3 punti di abilità generali, parto utilizzando i primi ventanelli di vita, parto con 10 punti di risorse e prendo tutti i tratti dal nano più un punto da poter spendere nei tratti in futuro. Dopodiché, lead. Dove posso andare essendo nato un clansman? Posso andare in tutto quello che riguardano la vita da Gidda e quindi voglio essere non lo so un artigiano. Parto come Craftman. Mi sposto in Craftman 25 anni 25 punti risorse più uno alle statistiche mentali o alle statistiche fisiche 7 punti skill angling reputation wise cartwright mending prendo un tratto affamato prendo i nuovi controlli i miei requisiti e dopo da qui dove posso andare? Di qua. Di qua. Di qua. passo dopo passo mi sposto in una vita 5, 6, 7 passi della vita creano un personaggio normale 9 eccezionale ok? Sommo gli anni guardo le tabelle vedo quanti anni ho modifico le statistiche creo il personaggio e comincio a distribuire punti a segnarmi le abilità dove l'ho messa a tenere le tracce di tutto quanto in questo modo creo una vita creo una vita aggiungo delle credenze aggiungo degli istinti comincio a capire perché ha fatto delle scelte gli do un aspetto emotivo gli do degli obiettivi e alla fine ho un personaggio un personaggio composto da decine di numeri decine decine di numeri ma vivo a tutto tondo che guadagnerà esperienza in due modi agendo quando si fanno dei tiri in base alla differenza tra i dadi che tiro quindi dati aiuti supporti oggetti conoscenze alternative che posso mettere in campo tutto dadi che tiro e difficoltà che affronto spunterò caselle in appositi tabelle per imparare facendo all'infinito una cosa facile non diventerò migliore qualche volta dovrò superare i miei limiti andare oltre e dovrò fare anche delle cose difficili nel mentre ok in questa maniera creerai le basi per l'esperienza quando ne avrai sufficienza scatti anche durante un combattimento ho imparato qualcosa me ne sono reso conto so fare qualcosa di meglio uguale stessa maniera sarà per poter avere il passaggio a qualcosa di divino spendendo alta ora vi dirò che cos'è comincerai a caricare il valore di una tua abilità tanto più lo farai quindi tanto più questa tua abilità sarà legata al destino al tuo essere ai tuoi obiettivi e alle tue credenze tanto più diventerai importante e di fatto un motore di una ruota che è l'epicità del racconto del tuo personaggio portandoti di fatto alla fine a essere un eroe non solo comportandoti in maniera coerente con i tuoi principi con i tuoi istinti e con gli aspetti emotivi che hai guadagnerai quello che vi dicevo l'arta sono punteggi differenti abbiamo i deeds abbiamo i fate hanno valori diversi e si legano in modo differente alle azioni fare qualcosa che assomiglia a te stesso quindi di fatto interpretare bene il personaggio te lo ha fate una cosa semplice non vale molto mentre invece fare grandi risultati cambiare il mondo anche oltre gli obiettivi che uno si ha da dei deeds cose estremamente importanti spendendoli modificherò i tiri o addirittura avrò un passaggio di grado da nero a grigio da rigio a bianco per una scena specifica oppure riuscirò a rendere qualcosa legato a tal punto a doppio filo a me da renderlo di fatto quasi divino ok questo è un concetto perdonatemi da 17 minuti perché più di 17 minuti è difficile riuscire a spiegarvelo ho fatto il possibile a 17 minuti per riuscire a spiegarvi più o meno il concetto di fondo del sistema di regole di burning wheel che è estremamente ampio come vi dicevo e molto dettagliato in ogni punto quindi creando un personaggio facendoci il percorso di vita avremo alla fine questo enorme set di regole e di dadi e di numeri che ti permettono di rappresentarlo in ogni aspetto e a quel punto parte quello che è secondo me veramente burning wheel cioè ovvero l'atto il desiderio di giocare insieme e di creare una storia crearla non limitatamente al concetto di limitatamente una parola che ho scelto volontariamente limitatamente al concetto di narrazione emergente non è per il fatto che chiacchierando insieme creeremo una storia nel mezzo questo è lavorando insieme creeremo una storia il concetto tecnico dal mio punto di vista in questo gioco è molto diverso dal solito normalmente giochiamo di ruolo con l'obiettivo di raccontare una storia insieme qualcuno può essere un lead director o un direttore e quindi avere un master frontale che racconta la trama la storia e gli altri che la svolgano la vivono la influenzano la cambiano ok o altre volte può essere completamente circolare e la storia non esserci quasi ma uscire mano a mano dei giocatori in questo caso è differente in questo caso regole e storia sono unite in una strana congiunzione matematico narrativa le regole e le azioni dei giocatori è quella di lavorare insieme al master per portare avanti la storia e creare degli eroi e questo lo facciamo non solo con la narrazione ma con le azioni anche matematiche anche con lo sfruttamento dei dadi anche con l'utilizzo dei fallimenti anche con la scelta di quali percorsi e di quali sfide portare avanti è un gioco radicalmente diverso dall'essere semplicemente complicato non lo vuole essere semplicemente complicato l'impressione che ho da questo gioco però un'impressione è un qualcosa creato a tavolino con un tempo infinito dietro di gioco test di gruppo di gioco e test e di gruppo in cui lentamente tutti i concetti di narrazione narrazione emergente azione cooperativa agenda si sono infilati negli spazi tra i numeri e la complessità di un gioco ad alto livello simulazionista ma ad alto sistema simulazionista qui si simula forte ok forte ragazzi ma forte duro vi davo un esempio di quanto ma è un esempio naturalmente a parte che i lifehuff sono tipo 140 pagine ok e gli incantesimi della fede umana che è una sottocategoria di incantesimi tipo solo loro 22 pagine le skill partono da pagina 250 e arrivano a pagina 350 100 pagine di skill skill e tratti per concludere il gioco prosegue nei dettagli cominciando a entrare dal è un percorso della discesa verso il complicatezza delle regole i libri stessi sono raccolte del libro 1 e del libro 2 il libro 1 era quello il character burner scusatemi cioè ovvero quello per creare il personaggio quindi le regole di base e come si crea il personaggio il libro 2 è quello che in realtà entrava in dettaglio sull'utilizzo delle regole per il master ha un approccio anche al sistema di spiegazione del manuale completamente differente a quelli fatti finora mentre ovviamente abbiamo un'introduzione del gioco che cosa stiamo per giocare le regole di base creazione del personaggio le regole del master e poi per finire le regole aggiuntive generalmente la composizione del manuale più o meno è questa qui no qui entra in una specie di scala di complessità non tanto le regole ma di uso diventando sempre più dettagliato e permettendoti in ogni sottosezione di andare sempre nel dettaglio durante il suo percorso in poche parole se facciamo la creazione del personaggio arriviamo a un punto in cui dobbiamo discutere di quanto riguarda le risorse l'aspetto delle risorse cosa posso comprare come funzionano le relazioni quali sono le relazioni che posso prendere in creazione e quali sono i modificatori alle relazioni cioè avere un cugino nobile ok è completamente diverso in termini di regole di avere un cugino nobile con cui si ha una storia d'amore ma che prima lo diavo cambia nelle regole cambia quanto spendi per crearlo per averlo e per gli effetti che ha della trama passo successivo il punto numero due è ritornare ad una semplicità incredibile raccontandoti semplicemente e questa è la creazione delle statistiche distribuisce questi punti e con questa statistica la cosa in questa maniera in questo caso specifico questa statistica cambia e diventa in quest'altro modo e funziona in quest'altra maniera quindi entra sempre un dettaglio in ogni punto come se fosse una serie di sottoparagrafi a fiore in un frattale di complessità altre informazioni non ne sto a raccontare ci sono sono per un'idea è l'ultima ci sono le manovre di combattimento quando si vanno nelle regole avanzate che ti permettono ad avere anche i sistemi di combattimento e di conseguenza avere le tecniche singole e i modi per affrontare l'avversario quindi le fencing style letteralmente con le regole dettagliate e il loro avanzamento nell'esperienza del personaggio come vi dicevo prima è un gioco che richiede che i giocatori lo appoggio è un gioco che richiede che anche i giocatori abbiano il desiderio di affrontare questa complessità e si può affrontare solo se fa parte integrante dell'idea e dell'agenda del toltavo se tutti voi è un gioco simulazionista che vi racconterà delle storie epiche ma richiede impegno e lavoro da parte di tutti The Burning Will è un'opera che è esattamente quello che state cercando per tutti gli altri per tutti gli altri guardatelo perché anche solo come gesto di rispetto nei confronti degli autori di un'opera così incredibile dal punto di vista dobbiamo sapere di che cosa sta parlando ciao a tutti The Burning Will ciao